Attenzione attenzione è ufficiale torno i launchpad su Binance dopo tantissimo tempo una grande notizia all'interno di Binance con un nuovo launchpad che ci permetterà di guadagnare il token Hookend. Nel video di oggi quindi scopriremo come funzionano i launchpad di Binance, scopriremo qual è la differenza tra launchpad e launchpool, come poter guadagnare con un launchpad di Binance ma soprattutto come poter partecipare. Quindi prima di andare avanti vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere altri contenuti come questo e di seguirci anche sul nostro canale Telegram, iscrivetevi in quanto anche sul nostro canale Telegram pubblicheremo aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il mondo delle criptovalute. Innanzitutto se volete capire che cosa sono i launchpad e qual è la differenza tra un launchpad e un launchpool vi consiglio di visionare questo video che avevamo fatto qualche mese fa dove abbiamo spiegato dettagliatamente la differenza tra launchpad e launchpool. Lo troverete sul nostro canale di Cryptovalute Italia. Detto questo naturalmente il launchpad ci dà la possibilità, l'opportunità di generare dei guadagni nel token che viene lanciato quindi diciamo che sono dei protocolli che poi vengono lanciati all'interno di Binance per la prima volta e verremo pagati con un'allocazione naturalmente che ci verrà data una parte di allocazione se abbiamo a disposizione i BNB di Binance. Infatti cliccando su visualizza altro ci fa vedere come possiamo partecipare. Guardate un attimino una cosa molto importante, l'ultimo launchpad che è stato anche abbastanza importante perché poi Stepn ha avuto ottimi risultati nel corso del tempo, comunque una cripta oggi molto conosciuta con la sua app. è stato lanciato il 9 marzo 2022 quindi se andiamo a fare un calcolo sono passati tanti mesi, sono passati più di 7 mesi dall'ultimo launchpad quindi questa è una grandissima notizia perché vuol dire che finalmente possiamo generare degli interessi dai nostri BNB che abbiamo all'interno di Binance al di là del Volt che ci dà uno 0,35% che è troppo basso. Quindi quello che vado a fare è cliccare all'interno di questo launchpad e adesso vi faccio vedere dettagliatamente come noi possiamo partecipare. Innanzitutto in questo momento c'è il periodo di calcolo di detenzione BNB, per partecipare verrà conteggiata la tua disponibilità media giornaliera di BNB su diversi account, puoi trovare maggiori dettagli sul calcolo qui. E infatti andando a cliccare qui essenzialmente noi i nostri BNB li dobbiamo avere all'interno o del conto spot margin oppure come collaterale dei prestiti di crypto Binance, nei saldi dei conti secondari, simple earn, BNB Volt, futures, saldo del wallet di finanziamento Binance, conto launch pool o staking DeFi. Quindi questi sono i posti in cui noi dobbiamo avere obbligatoriamente BNB per poter partecipare a questo launchpad. È importante avere BNB, quindi solo con BNB possiamo partecipare. In questa fase naturalmente non dobbiamo fare nulla, noi per esempio li abbiamo attualmente nel volto e quindi dobbiamo semplicemente attendere. È iniziato il 24.11.2022 a mezzanotte e il periodo di sottoscrizione inizierà l'1.12.2022. Quindi semplicemente noi fino all'1.12.2022 non dobbiamo fare nulla ma attenzione contestualmente continueremo a guadagnare degli interessi passivi di BNB attraverso il BNB Volt. Questa è una cosa molto importante. Ci tengo a precisare e specificare una cosa ancora più importante che è non ha senso acquistare BNB per partecipare al launchpad per poter ottenere questi token se non siete comunque bullish su BNB perché non vi aspettate dei guadagni incredibili. Ok? Però come abbiamo fatto vedere anche nei video precedenti naturalmente vi parlo dei vecchi launchpad quindi poi vi aggiorneremo per capire anche quali sono stati i risultati di questo launchpad. E generalmente ragazzi ci siamo portati a casa comunque con 2 BNB, 3 BNB di test, vi faccio proprio sull'account test. Quelli 80-100 euro al launchpad perché poi la cosa bella qual è che voi otterrete questo token e lo potete subito tampare e vendere all'interno della sezione trading quando viene aperto il trading. E siccome generalmente quando viene aperto il trading hai un prezzo molto più concorrenziale perché si alza subito il prezzo, quello che è sempre successo, vai a guadagnare e li converti in BNB. Quindi può anche essere un buon modo per aumentare i BNB e l'allocazione che hai due BNB. Quindi in questa fase, ripeto, in questa fase iniziale l'unica cosa che dovete fare è avere BNB, averli all'interno di uno di questi posti e stare fermi. Aspetto molto importante. Nel caso dei progetti, ok? Non è detto che vi debba piacere per forza di cose il progetto. Infatti io non entro nel dettaglio in quanto voi potete andare a visionare il report di research, il white paper e andare sul sito web. Se il progetto vi piace, vi faccio un esempio, Stepney è stato un ottimo progetto, lo potete studiare, quindi andate a fare i vostri ragionamenti. Non mi sento in questo soprattutto periodo di consigliare progetti eccetera. Guardate voi, ragionate voi e decidete se può essere un buon progetto per voi oppure no. In quel caso potete decidere di detenere il token ma addirittura quando viene lanciato potete anche decidere di comprarlo perché magari può essere un buon momento per acquistarlo. Nel caso in cui invece non vi interessa il progetto non fa nulla perché in realtà il launchpad può essere realmente usato per sfruttare i propri BNB, per comprare una parte di questi hook. Quando viene poi distribuito il token e quindi si apre il trading, rivendete tutto e siete in guadagno. Ripeto, questo è quello che è accaduto sempre in tutti i launchpad effettuati da Binance. Non vi posso assicurare che nel prossimo accadrà di nuovo, però generalmente è sempre successo e sempre accaduto. Ed è, ripeto, personalmente una cosa che continuerò a fare anche perché è l'unico modo per poter generare ottimi interessi per quanto riguarda BNB. Vediamo quelle che sono le regole. Innanzitutto, come potete vedere, in totale vengono offerti 25 milioni di hook che possono essere acquistati a un prezzo di 0,1 USD ad hook. Infatti, quello che voi dovete fare, naturalmente, quando partecipate, è poi andare ad acquistare questi hook quando ci sarà il momento di acquistarli. Naturalmente li acquisterete con BNB e poi, come vi ho detto, nei trade andrete a scambiarli con BNB e quindi aumenterete i vostri BNB se aumenta il prezzo rispetto a quello che voi avete acquistato. L'investimento minimo per poter partecipare è 0,1 BNB, quindi se ne avete meno non potete partecipare, è praticamente l'hard cap, quindi il massimo di hook che possono essere acquistati per utente è di 150 mila, che corrisponde a 15 mila dollari. Naturalmente è molto difficile perché qua vuol dire avere migliaia di BNB, più o meno. Allora, una cosa molto importante. Questo è il periodo della preparazione, l'abbiamo spiegato e non dobbiamo fare nulla. Poi c'è questo periodo qua, che è il periodo di sottoscrizione, che inizia l'1.12.2022 alle 6 UTC, che sarebbero più o meno le 8 italiane, ma controllate per sicurezza ora che è cambiato l'orario. E quindi tra le 8 italiane e le 11 italiane, qui vedete dalle 6 alle 9 UTC, sempre l'1.12, abbiamo la possibilità per un periodo di 3 ore di poter confermare l'acquisto dei token. Quindi devi prima impegnare i propri BNB. Tieni presente che una volta impegnati i due BNB saranno bloccati e non sarai in grado di riscattare o accedere a altre funzioni come trasferimenti, preleve trading, finale distribuzione e finale del token. Quindi cosa vuol dire? Che in questo periodo qui, dalle 6 alle 9, noi confermiamo di voler partecipare. Cosa succede? Succede che solo in quel periodo vengono tolti dal Volt. Li abbiamo lì e per 3 ore non possiamo fare nulla. Non vi preoccupate, solo 3 ore. Dopo queste 3 ore, ok, c'è il periodo di calcolo che va dalle 9 alle 10 UTC. Quindi ricordate che è un orario non italiano, fate su Google, vi basta scrivere 10 UTC in Italia e vi dice che ore sono. L'abbonamento si chiude e inizia il calcolo dell'allocazione dei token. Quindi cosa vuol dire? Che ci calcola quanti token ci verranno dati e quindi quanto noi andremo ad acquistarne. Una volta fatto questo, alle 10 ufficiali, sempre l'1 dicembre 2022, verrà calcolata e i BNB corrispondenti verranno detratti dall'importo di BNB già bloccati. Quindi una volta che vengono detratti questo importo di BNB, quindi noi acquistiamo questi hook con BNB, i due token verranno entrambi trasferiti sul portafoglio spot. Quindi possiamo BNB intanto metterlo di nuovo nel Volt e continuare a generare interessi nel Volt. Mentre gli hook ce li avremo nel nostro Wallet. Quando si aprirà il trading, e lo faremo assieme, magari l'1 dicembre, di solito un'ora dopo si apre il trading o due ore dopo, possiamo immediatamente vendere questi hook per BNB. Cosa succede? Che se noi lo compriamo a 0,1 e magari hook va subito a un dollaro, può succedere ragazzi, attenzione, noi abbiamo praticamente 100 hook, perfetto, facciamo un calcolo. 10 centesimi per 10 sono 1 euro, giusto? Quindi praticamente per 100 siamo arrivati a spendere 10 euro. Vi faccio il calcolo in euro, anzi facciamolo in dollari, in 10 dollari. Se io vendo questi 100 a 1 dollaro l'uno, li vendo a 100 dollari, quindi ho guadagnato 90 dollari. Calcolo così alla buona ragazzi, ma non è che è proprio esatto esatto esatto. Però capite bene che ho 90 dollari di BNB in più rispetto a quelli che avevo prima. Nel caso in cui mi voglio ottenere il token, ottimo, l'abbiamo preso a un prezzo molto più basso rispetto a quello che è il prezzo di lancio sul mercato. Quindi essenzialmente è quello che dobbiamo fare all'interno del Launchpad. Vi ricordo che sul canale trovate un sacco di video, anche passati, dedicati a Binance, Launchpad e Launchpool. Vi consiglio di guardarli così nel frattempo, questi sei giorni, vi fate comunque un recap totale. Se volete lasciate un commento se volete video, lasciate un commento e magari ve li inseriamo se avete bisogno di un video in particolare. Ma comunque se andate sul canale scorrete ragazzi senza essere pigri, andate lì, cercate e li trovate, ne trovate tanti. E capite anche tra l'altro nei vecchi Launchpad quanto abbiamo guadagnato. Perché in alcuni abbiamo anche fatto il video quando abbiamo fatto il trade e abbiamo venduto. Magari l'1 dicembre faremo questa cosa insieme a voi, ok? Se avete dubbi o domande sfruttate i commenti qui in basso. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Se non siete ancora iscritti a Binance potete iscrivervi dal nostro link referente in basso dove avrete a vita degli sconti sulle commissioni che andrete a pagare quando fate effettuate trading di criptovalute all'interno di Binance. Ci vediamo in un prossimo video, ciao e a presto!